Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, chi mi segue da un po' di tempo sa che di solito il venerdì mi capita di commentare la trasmissione che è andata in onda la sera prima su La7, la trasmissione condotta da Corrado Formigli, che io da sempre ho definito uno dei giornalisti sicuramente più in prima linea per quanto riguarda il pensiero unico, per quanto riguarda il suo attacco nei confronti in particolare della destra o del centrodestra e in questo caso del governo Meloni. Con la storia del fascismo, del pericolo fascismo che lui continua a tirar fuori e anche ieri, all'inizio, nella prima parte della sua trasmissione, chiaramente non poteva non prendere spunto dal 25 aprile e attaccare quindi tutto quello che era possibile attaccare. Dimenticandosi, ma non credo dimenticandosi, ma non sottolineando quello che invece è un fatto che abbiamo commentato, ma di quale liberazione parliamo? Davvero gli italiani si possono ritenere liberi in questo paese? Credo che la risposta, almeno per noi, sia ovvia. Non è esattamente così e quindi cosa c'era da festeggiare il 25 di aprile? Ma oggi non voglio tanto soffermarmi ancora una volta su questa questione del fascismo, ma sulla seconda parte che lui ha affrontato riguarda il conflitto tra Ucraina e Russia. Come sempre fa Corrado Formigli, lo sappiamo ormai, è una strategia da parte dei conduttori di La 7 di fare delle vere e proprie imboscate a chi la pensa in maniera diversa, oppure organizzare le loro trasmissioni facendo 4, 5, 6 contro 1 contro il malcapitato che non la pensa come loro, che lui riesce a gestire come vuole perché lo zittisce quando non gli fa più piacere che questo esponga una posizione diversa. Molto spesso, come anche ieri, sono da remoto, non sono in studio, quindi è più facile togliere l'audio, zittirli, andare oltre e così via. Ma sono questi mezzucci che ormai conosciamo. Ieri però è di lei che vi voglio ancora una volta parlare, anche questo, chi mi conosce lo sa perfettamente, è uno dei miei versagli preferiti, la signora Nathalie Tocci, che dovrebbe essere, anzi lo è per carità, io non metto in dubbio questo, un'esperta di geopolitica, un'esperta di conflitti mondiali, in particolare in quell'area, e viene molto spesso interpellata anche per quanto riguarda il conflitto attuale tra Ucraina e Russia. Tra l'altro, bazzica sempre intorno alle trasmissioni di La Sette, se non è Formigli e Floris, se non è Floris e Lamerlino e così via. È molto più raramente in Rai e in Mediaset. E quindi ieri era presente e ancora una volta, perché è un ritornello che ripete tutte le volte che analizza quello che sta succedendo sul territorio ucraino, definisce il male assoluto la Russia e Putin in particolare, soprattutto Putin, e la democrazia ucraina, la democrazia di Zelensky. Quando abbiamo imparato a capire, a riconoscere che non è assolutamente così, ma lo sappiamo anche perfettamente che il pensiero unico occidentale vuol farci credere che la Russia è il male assoluto e che invece l'Occidente, perché insomma anche questo è notorio, la guerra dell'Ucraina è più che altro la guerra degli Stati Uniti, della NATO, nei confronti di un avversario sullo scacchiere mondiale, per l'egemonia mondiale. Ecco, ripeto, ancora una volta analizzando quello che sta succedendo, e tra l'altro, beata lei che ha questa visione, che sa sempre tutto, ritiene che nella controffensiva annunciata dagli ucraini prossimamente, tra un mese dovrebbe partire questa controffensiva, è sicura che l'Ucraina riguadagnerà del territorio, non ha specificato quanto, ma lei è sicura che questo porterà a una conquista di territorio, e quindi a rendere l'Ucraina più forte eventualmente fra qualche mese ad un tavolo delle trattative. Staremo a vedere, staremo a vedere se così sarà, perché su molti fronti hanno sbagliato. La stessa Nathalie Tocci, vi ricordo, che un po' di mesi fa diceva che assolutamente l'Ucraina stava vincendo la guerra, cosa che a conti fatti non è così, assolutamente. Sicuramente la Russia ha conquistato quel territorio che gli premeva, perché il resto era propaganda quando ci dicevano che voleva conquistare anche la Romania, la Polonia e tutto l'est Europa, semplicemente era propaganda da parte dell'Occidente. Io continuo a essere convinto che si tratta di un discorso di riconoscere l'indipendenza, che ormai è un dato di fatto della Crimea, e dell'indipendenza del Donbass. Queste sono le due cose principali. Ora però torniamo a questo fatto di Nathalie Tocci, che continua a raccontarci di un'Ucraina democratica. Poi vedete, per fortuna, qualche volta, in un sussulto di onestà intellettuale, anche quelli che ritengono che la Russia sia il male assoluto, che ritengono che è giusto inviare le armi all'Ucraina, che ritengono che l'Ucraina sia dalla parte della ragione, così anche l'Occidente, però, però, ripeto, in un sussulto di onestà intellettuale, anche ieri, adesso perdonatemi che mi sfugge in questo momento il nome della studiosa che era presente, ha ribattuto a Nathalie Tocci dicendogli beh, insomma, su questa cosa non sono molto d'accordo con te, perché insomma ce ne vuole per definire l'Ucraina un paese democratico, perché se andiamo a vedere come vengono trattati coloro che la pensano diversamente, i partiti politici che sono stati azzerati d'opposizione, oppure anche la stampa, le televisioni che non raccontavano quello che piaceva, a Zelensky al governo sono stati zittiti e così via, e tante altre cose, la corruzione, ha parlato della corruzione che c'è in Ucraina, concludendo che, insomma, definire quindi quel paese democratico ce ne vuole. Nathalie Tocci è stata in silenzio. Vedete, siamo un po' alle solite. Perché io ho continuato ad attaccare questo personaggio? Perché questo è un personaggio che si è presentato circa un anno fa, a un certo punto molto infastidita dal fatto che ci fossero altre persone che commentavano quello che succedeva in Ucraina, che avevano una posizione diversa della sua, e lei si era molto infastidita dicendo ma, insomma, non è giusto lasciare spazio e parola a quelli che non sono competenti. E io avevo ribattuto, e continuo a farlo tutti i giorni, certo, per carità, chi nega che la competenza è una cosa importante? Certo che è importante. Il problema è un altro. Se tu questa competenza la metti al servizio dei poteri forti, di un sistema, hai dei conflitti di interesse, apro una parentesi, gliel'ha ricordato lo stesso Travaglio, quindi ad attaccare pesantemente Nathalie Tocci, non sono soltanto io che potrei essere un fuori di testa, che me la prendo così con Nathalie Tocci per partito preso, ma ci sono ormai personaggi, insomma, sicuramente molto più di spicco, e ve ne ho citato uno come Marco Travaglio, che ha messo in evidenza tutta una serie di ipocrisie da parte di Nathalie Tocci, di posizioni inaccettabili, parlando anche lui di conflitto di interessi di questa signora. Oppure, addirittura, arriviamo, secondo me, è il mio punto di vista, alla malafede da parte di Nathalie Tocci. D'altronde, voglio dire, l'altra cosa che lei non ha mai, mai, mai sollevato nei suoi interventi, le ragioni della Russia, che non vuol dire che se uno ha delle ragioni è giustificato ad invadere un altro paese, però voi capite che perlomeno questo ci deve fare riflettere, anche in chiave futura, cambia il giudizio di quello che è successo e del perché è successo. E ormai abbiamo anche personaggi, non ultimo, come Bruno Vespa, che ha chiaramente detto che l'Occidentale ha delle precise colpe e ha detto quali sono queste colpe. L'aver, dopo la caduta del muro di Berlino, quindi dagli anni 1990 in poi, aver spinto sempre, sempre, sempre di più la Nato ai confini della Russia. E ricordo molto bene quell'intervento di Bruno Vespa che concludeva che ragione c'era di fare una cosa del genere. Ma lo stesso Papa, vi ricordate, quando ha usato la parola abbagliare? E se tu abbaglia la porta di uno non puoi rimanere sorpreso se questo si arrabbia, no? Voglio dire, ecco, Nathalie Tocci mai ha fatto menzione di questo. Lei è mandata lì per dire quanto è brutto e cattivo e quanto bisogna abbattere la Russia e quanto è un bravo ragazzo, un eroe e sta portando avanti una democrazia, l'Ucraina. Cosa, giochino, che mi auguro anche rispetto a quelli che guardano solo la televisione, stia vacillando, me lo auguro, ma soprattutto io continuo, con questi miei video, continuo a sottolineare questo fatto, sperando che insomma da qualche parte queste considerazioni arrivino e facciano riflettere. Più che noi, che ormai sappiamo esattamente come stanno le cose, l'obiettivo è anche allargare un attimino il raggio d'azione affinché questa informazione arrivi anche ad altri. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.